Ripartiamo Carosino. È nell'ottica di ridurre le distanze imposte per diversi mesi dall'emergenza epidemiologica da coronavirus tra i cittadini e la cultura che l'amministrazione di Carosino, capitanata dal sindaco di Cillo, ha deciso di mettere in campo diverse iniziative, seppur con un trend diametralmente opposto a quella dello scorso estate. Dopo aver avviato un ITAR di confronto con le diverse associazioni del territorio, si è optato per delle serate all'insegna di eventi di alto profilo culturale e di momenti ricreativi dedicati interamente a bambini e famiglie. L'inter estate carosinese è stata dunque ideata tenendo conto delle disposizioni governative relativamente al covid-19. Per questo, durante la conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo, il primo cittadino ha spiegato come il cartellone è stato totalmente ricalibrato rispetto a quello precedente, sia nella logistica che nel tipo di manifestazioni. Era doveroso far ripartire la macchina degli eventi e dell'economia del paese, ma eravamo costretti a fare i conti con tutte le restrizioni del caso. Per questo abbiamo preferito cambiare le location, dislocando gli eventi nella zona periferica del paese, in più ampi spazi rispetto a quelli del castello e della piazza, ha detto di Cillo. Protagoniste quindi di quest'estate carosinese saranno la musica, in particolar modo quella dell'Accademia Rusalca, la cultura che uscillerà da un atto teatrale sino alla presentazione di nuovi libri ed attività ricreative per bambini e famiglie, comprendendo anche la scoperta del territorio. Per l'assessore con delega all'associazionismo, al teatro e alle tradizioni, Davide Roselli, nonostante si prospettasse un'estate di ristrattezza in vista delle riaperture, seppun limitate, non abbiamo voluto rinunciare alla seconda edizione del cartellone di eventi estivi. Nonostante questa emergenza abbia comportato l'assenza di alcuni eventi ideati dalle associazioni del territorio, ci siamo impegnati affinché l'estate fosse caratterizzata da eventi di qualità. Saremo infatti onorati dalla presenza di professionisti di fama nazionale, dice Roselli. Ogni evento in programma dunque sarà occasione di svago, divertimento e riflessione per tutta la comunità, ma vuole essere soprattutto, come anticipato dal titolo, ripartenza del settore culturale, economico, turistico, ma soprattutto sociale.